Gentili telespettatori buona giornata vediamo questa supermedia di tutti i sondaggi politici degli ultimi 15 giorni fatta da Utrend. Vediamo che al 25 novembre il PD di Letta rimane assolutamente invariato al 20,3 per cento variazione zero. Fratelli d'Italia perde lo 0,1 del 19,6 scende al 19,5 per cento. Vediamo che la Lega perde lo 0,2 per cento e dal 18,6 scende al 18,4. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6 per cento dal 16,4 scende al 15,8. Forza Italia perde lo 0,1 dal 7,4 scende al 7,3. Vediamo azione e Italia Viva azione al 3,8 invariata Italia Viva al 2,6 invariata. Vediamo poi sinistra italiana cresce dello 0,1 dal 2,1 sale al 2,2. Articolo 1 MDP dal 2 per cento sale al 2,1. i Verdi dall'1,9 salgono al 2,1 mentre più Europa dall'1,5 sale all'1,7 un incremento dello 0,2 per cento. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Buona giornata.